salve amiche ed amici che mi avete seguito fin qui ti chiedo scusa di non avere attualizzato fino adesso questo canale stante cian ma è che sono stato occupato innanzitutto caricando i miei filmati nel mio canale di youtube santin chan e poi perché soprattutto negli ultimi mesi ho usato molto il mio profilo di google plus santin chan dove vi ho caricato foto e video quindi mi invito a tutti di andare a vedere google plus santin chan oggi poi ho cercato altri siti alternativi per caricare video non sono riuscito a caricare nulla in meta caffè perché sembra che non c'è il bottone per caricare non so io mi sono iscritto ma il risultato difficile e poi ci sono altri siti in lingua spagnola inglese però già avendo vimeo dailymotion e youtube penso che sia più che sufficiente beh vi volevo comunicare che io ho già mandato dei video che ho girato il sabato per in italy in a dei di gabriele salvatore è un progetto della rai e che tutti i video che magari non useranno per fare l'assemblaggio di un mega video con tutti i videoclip di italina dei tutti i video che non gli utilizzeranno miei ricaricherò tanto il vimeo in dailymotion come in youtube spero che invece utilizzino i miei video io vi ho partecipato speriamo che ne venga qualcosa e quindi dicendovi questo forse troverete san ten cian in italina dei vi mando i miei miei più sentiti saluti continuate a seguirmi soprattutto se non ci saranno degli delle attualizzazioni in vimeo e in dailymotion continuate a seguirmi in youtube e da presto ciao